Fondata nel 1979 a Pordenone, Eurapo cresce e si sviluppa nel contesto industriale all'avanguardia dell'Italia nord-orientale. Specializzata nella produzione di unità di riscaldamento e di condizionamento, l'azienda ha favorito da sempre un ambiente di lavoro organizzato, sereno, partecipativo. Uno spirito e uno stile confermati anche dal recente ampliamento degli spazi operativi, resi oggi più confortevoli e interfunzionali. Qui una profonda esperienza pluridecennale si confronta, in uno scambio costruttivo tra generazioni, con nuove risorse umane e con nuovi progetti, che fanno di Eurapo una realtà giovane, propositiva, creativa. In questo clima di lavoro, Eurapo progetta e realizza un'ampia gamma di soluzioni tecnologiche che spaziano dal ventilconvettore per piccole unità abitative ai sistemi termoventilanti per grandi impianti centralizzati con canalizzazione. Prodotti universalmente riconosciuti per i loro valori intrinseci. Efficienza energetica, prestazioni certificate, resistenza dei materiali impiegati, grande attenzione per la sicurezza, predisposizione dei collegamenti elettrici e idraulici per semplificare al massimo l'installazione. Prodotti altamente personalizzati, progettati anche con le competenze delle università di Padova e Udine in funzione di specifiche esigenze impiantistiche e in grado di rispondere con precisione a differenti richieste tecniche ed estetiche. Prodotti sempre sottoposti a sistematici e rigorosi controlli, prima di essere immessi nel mercato già accessoriati e cablati. A queste qualità consolidate Eurapo aggiunge oggi grande innovazione nei contenuti. Dall'elegante design made in Italy delle linee di ventilconvettori alle potenzialità di Omnibus, il nuovo sistema digitale di gestione e comando perfettamente integrato con le unità terminali. Oltre il prodotto, Eurapo offre ai propri clienti un servizio apprezzato per la rapidità e la puntualità dei tempi di consegna. Per l'accurata assistenza a prevendita, con un approccio Problem Solver finalizzato anche a una predisposizione ottimale del percorso produttivo. Per il supporto a tecnici e progettisti, con software dedicati che consentono la corretta scelta delle unità terminali in funzione dei molteplici contesti impiantistici e di differenti obiettivi prestazionali. Per la reattività e per l'efficienza dell'assistenza post vendita. Questo approccio globale ha consentito all'azienda di fidelizzare un mercato mondiale esigente e prestigioso, con sbocchi privilegiati in Italia, nei paesi del centro e del nord Europa e in molti altri paesi emergenti, e con nuove prospettive di sviluppo senza frontiere. EURAPO Integrated Comfort Systems Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scelta giusta va più inFunемся.